Ha avuto luogo il primo marzo 2018, sotto una forte nevicata, la visita di un gruppo di giornalisti presso la Ilva di Parona. Gli onori di casa sono stati fatti ai massimi livelli da Federica Teso e da Maurizio Poletti, mentre Marco Buttafava ha seguito il gruppo per tutto il percorso che si è dipanato da la sala in cui si è svolta la conferenza fino alle unità produttive dell'azienda, fino a concludersi presso lo showroom in cui erano esposti in bell'ordine tutti i risultati più eclatanti della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti da parte di Ilva. Fondata nel 1946, Ilva Vernici per Legno è un marchio del gruppo multinazionale IVM, tra i più grandi e importanti in Europa e nel mondo, con una forte specializzazione nelle vernici per legno. Oggi le vernici Ilva vengono prodotte e distribuite da IVM Chemicals, azienda del gruppo IVM che dalla sua sede di Parona, in provincia di Pavia, si concentra sul mercato italiano con una presenza anche in Europa, Africa, Middle East, Asia e Pacifico, dove non sono direttamente presenti altre società del gruppo. Nelle vernici per il legno, il gruppo IVM è fra i principali produttori mondiali e il più grande in Italia. Controlla e gestisce direttamente alcune fra le più importanti aziende in Europa, con marchi storici come Milesi, Ilva e Croma Lacche, e commercializza i suoi prodotti in tutto il mondo attraverso distributori specializzati, con una presenza in 100 paesi. Le sue vernici sono in grado di soddisfare le esigenze di chi lavora con grandi impianti automatizzati, ma anche quella di evoluti e raffinati artigiani nel settore legno, casa, nel settore navale o nelle belle arti. Le aziende del gruppo dispongono di una capillare rete distributiva e di assistenza tecnica, altamente specializzata, e garantiscono ai clienti un servizio completo, anche nella messa a punto delle soluzioni, in grado di rispondere alle più peculiari esigenze tecniche ed estetiche, oltre che per specifici cicli produttivi. Ilva è da sempre impegnata a sviluppare la propria attività nella costante attenzione al miglioramento della sicurezza e alla riduzione dell'impatto ambientale dei propri processi, prodotti e servizi.